Ecco, oggi venerdì ci troviamo all'impianto sportivo nuovo di Castelfrentano, sto facendo una panoramica, queste sono le tribune, questo è l'impianto, la struttura polivalente al coperto, là ci sono gli sfogliatoi, questo è il rettangolo di gioco, potete vedere il bel manto erboso, sopra c'è anche pure un'altra struttura comunale per allenamento, si stanno preparando i rispettivi mister, le porzioni di campo per, fra poco ci saranno gli allenamenti, dai piccoli amici, primi calci, pulcini e esordienti, mentre i giovanissimi e gli allievi e la prima squadra si sono allenati ieri nel campo vecchio di Via Nazionale. Ecco, qua troviamo il nostro Gabriele Di Felice, mister Gabriele, che è anche il coordinatore dello staff tecnico, sta coordinando la predisposizione delle porzioni di campo, mister, lo vedo che è molto attento a preparare le porzioni del campo. Sto qua con mister Giulio, con mister Aurelio, mister Nicola, stanno arrivando i ragazzi e stiamo preparando il campo. Questo video lo voglio dedicare con tanto affetto e con tanta stima, lo voglio dedicare a una persona a me molto cara, che quest'estate, infatti questo video è quasi riservato solo a lui, perché lui aveva questo progetto di realizzare una scuola calcio a Lanciano. Io mi ero impegnato e mi ero reso disponibile con questa grande persona di poter realizzare quelli che sono i veri valori dello sport, quelli che sono i veri valori da portare su un campo di calcio per una scuola calcio. Come vedi ci diamo una struttura e un'organizzazione diversa un po' da tutte le altre scuole calcio, perché il nostro progetto, il nostro obiettivo è diverso un pochettino da tutte le scuole calcio. Questo video glielo mandiamo e vorrei tanto, dopo aver visto questo video, poterlo così far innamorare ancora di più del progetto che lui voleva realizzare. Io con il mio staff qui a Castelfrentano siamo disponibili a qualsiasi tipo di discorso, se lui ha ancora questa voglia e questo entusiasmo che mi ha manifestato quest'estate, che ho ancora dentro, per poter buttare già le basi per quest'anno e poi, perché no, l'anno prossimo per poter realizzare quella cosa che forse lui aveva in testa di realizzare e io con la mia società, col mio staff tecnico lo invito già da ora a venirci a trovare nel nostro impianto per poter vedere quali sono i nostri programmi e quali sono i obiettivi e per un qualsiasi discorso in futuro prossimo, breve e a lungo termine. Lo saluto con affetto, è peccato che oggi la giornata è un pochettino così piovosa, però gli manderò anche il video dei nostri ragazzini, del nostro grande successo che abbiamo fatto quest'anno con una squadra allievi, con una squadra giovanissimi, con tre squadre di esordienti, tre squadre di pulcini e due squadre di primi calci e di piccoli amici. Questo è quello che siamo riusciti a fare qui come società negli anni passati e oggi e spero di poter realizzare qualcosa con lui. Grazie, un saluto e un abbraccio. Grazie mister, buon lavoro. Concludiamo questa intervista di mister Gabriele Di Felice, nostro coordinatore tecnico, qua Pioviccica, vi salutiamo, buongiorno.